Perché votare me come candidata a sindaco vuol dire votare per i cittadini. Essere coerenti per noi è un impegno che abbiamo preso innanzitutto con noi stessi. Noi vogliamo una città aperta, che sa dialogare, trasparente e che sia nella condizione di far sviluppare questo potenziale ora soppresso da una forza politica sorda, sia della maggioranza che della minoranza. Votare noi significa votare per se stessi, votare per il bene comune, votare per quello che potrebbe essere uno sviluppo di una città vera, solidale e che sa ascoltare i bisogni dei cittadini.